Buonasera e bentrovati su Reteconomy, questa è Auto 3.0, una puntata questa del 3 di luglio dedicata all'estate e al mondo delle cabrio, tutto ciò che riguarda le auto scoperte, i pro e i contro, vi però presento subito il nostro ospite Pierluigi Bonora, giornalista del giornale promotore di Forum Automotive, un bentrovato a Pierluigi e naturalmente anche un bentrovato a Roberto Boccafoglia. Grazie, buonasera. Reteconomy, la nuova visione dell'economia.